Poi magari farò un video sulla rabbia o una live, ma ne avevo già fatto una, tu non l'hai sentita, non segui, non segui! E le faccio le cose e tu non segui, fai sempre queste domande, non segui! L'avevo già fatta una, non segui! Non capisci! L'avevo già fatto una live sulla rabbia!